I fan sono stati felicissimi di vedere la regina di nuovo sotto gli occhi del pubblico per il suo spettacolo equestre giubilico stellato di stelle, e alcuni momenti memorabili di sua maestà hanno valsa la pena aspettare. Trasmesso la scorsa notte, a Gallo Cluistori ha portato il pubblico attraverso la storia con spettacoli teatrali e musicali insieme a esibizioni di cavalli come parte della celebrazione del Queen's Platinum Jubilee. La stravaganza storica comprendeva 1300 artisti e 500 cavalli. Sua maestà, 96 anni, era in ottima forma durante lo spettacolo. Ridendo, indicando e battendo le mani per tutto il tempo, ma una battuta in particolare ha suscitato una reazione esilarante da parte della regina. Questo momento brillante è arrivato a seguito di un'osservazione presa in giro del comico umido di Oilly sulla mancanza della regina all'apertura del Parlamento Statale la scorsa settimana. È stata costretta a ritirarsi all'ultimo minuto a causa di problemi di mobilità, ma secondo quanto riferito l'ha osservata comodamente dalla sua casa al castello di Windsor. Chiudendo lo spettacolo, il signor di Oilly ha detto, grazie al grande pubblico. Britannico che si è presentato stasera, nel retro, indossando scarpe comode e abbigliamento antipioggia leggero. Ha poi ringraziato l'ospite d'onore, ma il suo commento ha sollevato alcune sopracciglia. Ha detto, vostra altezza reale, a nome di tutti qui vorremmo ringraziarla, molto umilmente, per averci accolto durante l'inaugurazione del Parlamento. Hai fatto la cosa giusta e ho vinto 5 sterline in una scommessa con il proprietario del mio negozio di kebab locale a Ipswich. Il pubblico ha prontamente applaudito alla battuta, ma la parte migliore è arrivata quando la telecamera ha fatto una panoramica su sua maestà. La regina fece un sorriso sottile ed intesa, prima di alzare la mano in aria. I fan si sono scatenati dopo la reazione, elogiando l'arguzia e il senso dell'umorismo di sua maestà. Amalo e amalo, 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 diceva uno. Un utente di Twitter ha detto, siamo così fortunati ad avere questa donna straordinaria, mentre un altro ha aggiunto, la adoro. Come si suol dire affilato come una virata. Un utente di Twitter ha detto, siamo così fortunati ad avere questa donna. Grazie a tutti Grazie a tutti